Alberto Baldan in qualche modo sta acquistando Rinascente, acquista punti vendita. Di uno lo sappiamo già, è già operativo, Illum a Copenhagen e poi ci sono rumors che ci sono trattative in corso in altri mercati europei. Quale sarà il futuro del gruppo Rinascente? Buongiorno a tutti, il futuro di Rinascente è quello di aprire nuovi department store, perciò non parliamo di negozi, se avete visto nell'ultima presentazione che abbiamo visto molte volte vengono aperti dei negozi, stiamo parlando di taglie piccole, poi vengono chiusi e vengono spostati. Per quanto riguarda un department store che ha le dimensioni dai 25 ai 40 ai 50 mila metri quadrati, una volta che si trova la location è quella per sempre, perciò bisogna stare molto attenti nel trovarla. La storia vedete, tutti i grossi brand internazionali e anche noi qui su Milano e anche sulle altre città in Italia siamo presenti da più di 100 anni, siamo 150 anni nella stessa location, perciò bisogna stare molto attenti. La prima acquisizione che è stata fatta di una compagnia al di fuori dell'Italia dopo 150 anni di storia è stata la Illum, è una compagnia danese a Copenaghen, ha una magnifica location nel centro di Copenaghen, sono 45 mila metri quadrati nei building tra servizi e parcheggi e sono soprattutto 25 mila metri quadrati di vendita. Nella zona prestigiosa dove di fianco sulla strada ci sono già degli altri brand del lusso, siamo in buona compagnia perché da una parte c'è il Witton e dall'altra c'è Gucci, perciò noi entriamo a portare dentro. Adesso c'è anche un app, mi fa molto piacere, mi fa molto piacere, perché l'importante è rafforzarsi nella location. Il lavoro che abbiamo iniziato a Illum il 6 gennaio scorso, sono iniziati i lavori di ristrutturazione, è un progetto che è molto simile come roadmap a quello che abbiamo fatto a Milano nel negozio di Duomo, di Piazza Duomo, ed è quello di in 5 anni ristrutturarlo completamente, metteremo all'incirca una cinquantina di milioni di capex, 55 milioni di capex per ristrutturarlo completamente. Iniziamo con le facciate, piano terra, food hall e design supermarket. La cosa importante è quella che noi non porteremo il brand rinascente all'interno di Illum. Illum è una compagnia che ha 120 anni di storia, perciò è una brand reputation altissima in tutta la Scandinavia, non solamente in Danimarca, e la nostra strategia è quella di aprire non una catena di negozi con l'insegna rinascente, ma una collezione di negozi in cui ogni negozio nella location in cui si trova deve esprimere il meglio della città e della popolazione in cui si riferisce. Perciò il negozio di Milano ha una sua connotazione, se voi arrivate a Milano parliamo di design, parliamo di moda, di un food di un certo tipo, ha questa connotazione. Il negozio che stiamo costruendo a Roma, in Via del Tritone, che apriremo a settembre 2015, un altro flagship di 15.000 metri quadrati avrà delle ricordazioni romane e Illum resterà con il brand Illum e dovrà esprimere il meglio della Scandinavia. Il department store è un contenitore, è una destination point che vive con una grossa parte di turisti, e l'abbiamo visto prima anche nelle due ricerche che abbiamo visto, e poi dall'altra parte è la parte dei locali. Però le aspettative che ogni parte di clientela sulla location sono diverse, cioè il travel retailer, il turista che arriva all'interno di un department store cerca il meglio di quello che può esprimere il paese in cui si trova, la città in cui si trova, perciò Milano cerca il meglio del made in Italy, tutti i valori che ci sono. Il cliente invece locale, il cliente italiano, il cliente milanese, in Danimarca sarà la stessa cosa, cercare invece uno spirito estremamente internazionale per trovare qualcosa che non viene portato dal retail normale. Perciò il nostro mestiere è agevolato perché mediamente noi ogni anno, ogni stagione cambiamo il 10% di brand o come location o come addirittura nome del brand, perciò un 20% all'anno e per noi è abbastanza semplice cambiare la formula e trovare quella adatta per i clienti in quel momento. Grazie. E sull'online pensate di fare come i vostri colleghi inglesi e investire molto? Allora, noi siamo molto sull'online da diversi anni, ma siamo sulla parte della comunicazione e sulla parte CRM, cioè noi sfruttiamo in maniera molto importante tutto quello che succede all'interno con i nostri clienti, abbiamo una relazione diretta con i nostri clienti e lo stiamo sviluppando moltissimo. Se parliamo invece di vendite online, ad oggi non ho trovato ancora un progetto convincente per rinascente all'interno dell'online. Comunque non lo sottovalutiamo perché abbiamo aperto il nostro sito online proprio in Danimarca, su cui abbiamo iniziato a fare esperienza all'inizio di dicembre. La Danimarca è il paese che ha la maggiore percentuale di vendite online sulla popolazione, perciò è un paese molto competitivo e molto complicato, pur essendo piccolo. La nostra esperienza è iniziata lì, però ad oggi è complicato trovare una formula vincente per noi di vendita online, vendendo solamente brand degli altri, brand. Noi ad oggi vediamo solamente il 5% come private label, sicuramente che dove andare a vendere il private label non vi annula nel mercato. Se è più simile al modello dello specialty store che del department store. Grazie.